Per chi non ha mai acquistato un dominio e anche per quelle persone che non sanno cos'è un dominio oggi in questo video vi parlo della mia esperienza che in queste settimane stavo cercando dei domini.com vi parlo dell'esperienza e del perché oggi è importante possedere dal mio punto di vista se si sta realizzando un'azienda di videogiochi o una startup o qualsiasi altra cosa un dominio.com il dominio non è altro che il nome del vostro sito internet io ad esempio ne posseggo alcuni come ad esempio samuelishacca.it e samuelishacca.com se si va su samuelishacca.it in automatico si va sul .com e se invece vai direttamente su samuelishacca.com beh vai su quest'ultimo poi posseggo ad esempio sviluppare giochi.it e ne posseggo tanti altri in queste ultime settimane come vi ho detto sto pensando di avviare la mia azienda a dire il vero ci saranno tante sorprese ma ve ne parlerò nelle prossime settimane quindi piano 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 sicuramente dopo agosto ve ne parlerò i primi di settembre almeno che non mi seguite sul mio profilo instagram che vi lascio il link in descrizione dove è possibile magari che io spoileri già qualcosina se si vuole ad esempio avviare una propria azienda in particolare di videogiochi scegliere il nome secondo me è molto molto importante e il nome deve essere dal mio punto di vista scelto anche in base ai domini disponibili questo cosa vuol dire che se noi ad esempio vogliamo comprare playgame.com molto probabilmente sarà già stato preso e in alcuni casi questi grandi domini vengono presi da delle aziende che comprano e vendono domini immaginate che il mio business è quello di inventarmi dei nomi fighi comprarmi il dominio.it.com e così via e poi vendere questi nomi a grandi cifre ad altre aziende che stanno nascendo dovete immaginare se non sbaglio che ad esempio il dominio uber.com famosissima startup che vi permette di spostarvi da un punto all'altro un po' come se fosse un taxi oppure uber eats tutti questi domini sono stati comprati a milioni e milioni di dollari perché erano già stati comprati da delle aziende il costo di un dominio di solito è dai 20, 30 euro, 15 euro all'anno però cosa succede? se io acquisto un dominio come ad esempio gameforgame.com che adesso è libero magari tra molti anni quel dominio potrebbe effettivamente servire ad un'azienda che si vuole chiamare in questo modo oggi però non voglio parlare troppo di questo argomento perché volevo raccontarvi che quando ad esempio si va a scegliere un nome di un proprio team di una prima azienda e così via secondo me è molto importante scegliere che tipologia di nome avere qualche settimana fa ho fatto una mega lista di nomi interessanti per la mia ipotetica realtà imprenditoriale e ho sempre notato che i domini .it erano liberi i domini invece .com non erano liberi ora so che alcuni di voi si stanno chiedendo Samuele qual è la differenza? perché non compri soltanto il .it? nell'ottica in cui la nostra azienda un domani potrà essere acquisita o in generale operare all'estero è importante dal mio punto di vista a possedere anche un dominio .com il dominio .com ad esempio nel mondo delle start up devi averlo per forza e secondo me anche dal punto di vista aziendale in questo uso dei videogiochi avere un dominio .com è molto molto importante perché ad esempio se vogliamo vendere videogiochi sul play store o app store e ad esempio il nostro gioco è in trend su twitter da qualche parte magari uno vuole andare sul sito ok avere il .it però secondo me il .com è quello che tutti ormai conoscono e che quindi ti dà una reputazione diversa quindi dal mio punto di vista se ad esempio oggi dovresti scegliere il nome della mia realtà cercherei comunque di focalizzare il nome proprio sulla disponibilità del .com quello che posso dirvi per esperienza è che nella maggior parte dei casi qualsiasi nome vi possiate inventare ovviamente molto interessante quindi un po' anche marchettoso a livello di marketing quindi molto appetibile nella maggior parte dei casi questi domini sono stati acquisiti in questi giorni ho mandato una serie di richieste per acquisire questi domini o per vedere la loro valutazione e il costo può variare da 2000, 3000, 4000 come anche 8000 euro soltanto il singolo nome ovviamente ha un valore, poi questo domini lo potremmo rivendere un domani però ha un valore quello che però voglio dirvi io è che i domini come ad esempio quelli acquistati fino ad ora da parte mia come SamuelShack.com, Shuttle Studio, Sviluppare Giochi questi domini hanno un costo di 15, 10, 7 euro l'anno quindi state molto tranquilli alcune volte anche 2 euro l'anno quindi state molto sereni però secondo me è importante nell'ottima in cui si vuole avviare un'attività imprenditoriale valutare un nome che è libero nella sua idea cioè non devo chiamarmi come un'altra azienda che anche loro fanno videogiochi e ovviamente è molto difficile perché siamo tantissimi nel mondo siamo quasi 8 miliardi quindi ci sono tantissime aziende o comunque studios o anche semplicemente pagine che trattano di qualsiasi altra cosa con il nostro simil nome ma è normale però è importante secondo me avere un nome che comunque è esclusivo nel vostro ramo in questo caso ad esempio nello sviluppo di videogiochi in generale volevo raccontarvi che io ad esempio io stesso oggi nel momento in cui sto scegliendo il nome della mia realtà aziendale ci sono delle cose che valuto sicuramente la disponibilità del dominio se ad esempio mi viene un nome bellissimo ma il dominio è già stato comprato e non è messo in vendita o semplicemente quel dominio viene utilizzato per altre aziende per fare altro molto probabilmente deciderai di scegliere un altro nome subito dopo ovviamente sappiamo benissimo che il nome deve essere molto di impatto ci sono diverse cose poi ovviamente ci sono aziende che si chiamano come Hello Games Supercell, Rockstar Games dipende molto da quello che si vuole fare dipende anche molto da quello che vogliamo fare noi proprio in generale se è un'agenzia di comunicazione, un'agenzia di videogiochi o un'azienda che sviluppa videogiochi dipende molto da tanti tanti fattori scegliere il nome comunque è molto complesso poi dal mio punto di vista un nome vale un altro e a proposito per questo volevo ricordarvi che oggi non è che si è obbligati a comprare il .com o a prendere un nome incredibile che vi costa 5000 dollari perché il lavoro che noi facciamo non so come spiegarvelo non gira attorno al brand non è che abbiamo creato che ne so dei diari vi faccio un esempio che tutti conoscono il nostro brand il nostro nome e allora siamo obbligati a comprare quel dominio e quindi potremmo spendere anche centinaia di migliaia di euro non c'è bisogno quindi va benissimo secondo me nella maggior parte dei casi comprare dei domini di terzo livello come ad esempio il .game il .studio il .xy il .it che quello non è un terzo livello però comunque un generale dominio tutto dipende ovviamente da quello che si vuole fare se si ha una visione molto più lunga e quindi si pensa che un domani si vuole operare all'estero domani se vogliono fare cose un po' più interessanti secondo me prendere il .com potrebbe essere la scelta migliore io ad esempio con Samuel Sciacca ho fatto così dall'inizio inizialmente ho comprato il .it poi ho visto che il .com era disponibile alla stessa cifra e ho preferito ovviamente comprare il .com ci sono dei pro e contro? dipende nell'ottica in cui ovviamente si va all'estero bisogna dare ad esempio il nostro sito internet e fa strano per uno ad esempio dall'altra parte del mondo utilizzare il .it perché loro non conoscono il .it molti ad esempio parlano di applicazioni che devono chiamarsi .io come ad esempio Slider.io molti non sanno ma io sta per Indian Ocean quindi proprio non c'entra io come ad esempio tecnologico come it sta per Italia io sta per Indian Ocean quindi questa è una cosa interessante in generale vi consiglio di documentarvi del dominio non è un obbligo non fatevi troppi trip all'inizio comparateli io ne ho comprati tanti nel tempo poi magari alcuni li ho eliminati e così via quindi state molto sereni partite con un .it nell'ottica però siete già molto avanzati nell'ottica in cui già state vendendo come ad esempio nel nostro caso per diversi brand in Italia e non scegliere il nome è una cosa molto delicata neanche troppo complessa secondo me dipende un po' da come si vuole prendere anche tutta questa esperienza vedere secondo me se il .com è libero oppure no in alcuni casi sono già stati acquisiti vale la pena spendere 2-3 mila euro in alcuni casi si specialmente nel mondo delle start up nel mondo delle start up ad esempio se stiamo creando un'applicazione e così via il .com è necessario sia per gli investor sia nell'ottica di un exit quindi vendere la propria realtà è completamente diverso fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto con un commento se state iniziando ad avere un vostro portfolio partite con un classico .it che vi costa anche 2 euro il dominio e 20 euro di hosting all'anno quindi state molto sereni piano piano poi scoprirete anche un po' come funziona se vi posso dare un consiglio se ad esempio volete scoprire un po' quanto costano i dominio e così via potete anche cercare nomi a caso .com alcuni potete vedere che sono in vendita e quindi bisogna contattare altri invece sono disponibili e hanno un valore economico che varia ci sono ad esempio domini incredibili come questi che state vedendo qui ad esempio internet.com oppure fund.com oppure carinsurance.com che state vedendo costano veramente molti milioni di dollari casino.com icloud.com zeta.com sono domini che sono stati comprati magari nel 2011 nel 2010 da persone normalissime a 10 dollari però nel tempo hanno raggiunto ovviamente un valore incredibile ce ne sono veramente tante fb.com quindi se un domani facebook volesse comprarsi questo dominio deve spendere 9 milioni di dollari perché vuole avere fb.com ce ne sono veramente veramente tanti ma questi sono soltanto un esempio se vogliamo pensare più nel normale pensiamo ad esempio che ne so arcade arcadeplay.com ad esempio lo cerco su internet ed è ad esempio già stato comprato quindi non è possibile comprarlo ci sono ad esempio alcuni come ad esempio retro game play punto com che questo qui ad esempio è stato comprato ed è fermo quindi magari riusciamo a contentare il proprietario di questo dominio offrirgli una cifra in altri casi invece è stato comprato ed è possibile già fare un'offerta perché ci sono aziende che comprano e rivendono questi domini fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto noi ci vediamo come ogni giorno con un nuovo video beh allora ci vediamo direttamente domani ciao ciao